vuoi andare no? no no perché niente mi sono... poi mi sono... ma guarda ma qua siamo in famiglia vedete guarda ma essi non vuoi che tu guarda un ghiaglio insieme a lui vediamo un po' se lui non ti preoccupare prego facciamo un bel applauso eh come bella la monta sarà bella che si il raggio sta buona papà e la signora sta a tutti sotto la nuova mi resta una e l'altra tu guardi l'agli e fatti l'agli e l'agli ma qua e la tu sarò che lo sai voglia a te voglia a te voglia visto che le borne che le borne a per a te grazie grazie facciamo un grosso applauso grazie ti voglio bene a te voglia voglia a te grazie grazie grazie